madonna ragazzi madonna come si fa soffrire così minchia che vittoria sudata mamma mia sempre quando sono ultra 0 dovevano soffrire incredibile incredibile madonna mia madonna 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 che sofferenza che sofferenza minchia non ne potevo finiva mai sta partita oh porca puttana comunque dai ragazzi andata bene tre punti ce le siamo sudati porca troia oh 3 a 0 dopo 20 minuti sono una partita spumeggiante però io ancora dicevo minchia aspetta aspetta che qua ancora si fa rimonti infatti già 3 a 2 sul 3 a 2 ho detto minchia qua ci pareggiano sicuro ci pareggiano ma dopo è giuato mario che cosa che cosa ha mangiato quell'altro madonna mia ma non male che è andata bene ma poi l'espulsione della fiorentina si era un po' stagerata ma sì ma le solite cose ma anche contro di noi sono successe cose del genere all'epoca ma succedono sempre alla minima manata quello casca per terra ma è così i card finalmente ha fatto un gol degno di nota finalmente stavo giusto parlando che niente cazzo i card non fa mai un gol come si deve va mai un gol non salta mai il nuovo invece ha fatto fatto il dribbio addirittura la finta minchia ma aspettavo non aspettavo ma comunque in linea di massima cosa abbiamo visto di bello questa inter vediamo di bello sempre i primi minuti che sembra che giochi insomma con con grinta però ragazzi non possiamo sempre subire almeno due gol a partita ma non è possibile sempre di contropiede ci segnano che cazzo non siamo in cazzo di mantenere i risultati poi la cosa che mi è piaciuta più che altro che anche anche dopo che loro hanno fatto il 3 a 2 bene o male abbiamo riuscito siamo riusciti a ad attaccare comunque ragazzi miei abbiamo sofferto saluto tra l'altro un tifoso viola jose luis palomino saluta per te mi spiace per la ferentina ma questa partita doveva andare così voi direte ma l'inter ha rubato non so se è rubato insomma l'espulsione era esagerata quello da dire c'era forse un rigore solo della ferentina non lo so ma se quanti falli ci sono ogni volta non vengono fischiati robe strane fatto sta che è andata bene a noi stavolta combinazione abbiamo segnato tre gol in più di venti minuti cosa che proprio non mi aspettavo brozovic si ha fatto una buona partita si può dare un 7 forse si può anche dare qualche cappellata l'ha fatto con doppia madonna con doppia ogni volta che tocco il pallone mi fa paura mi fa paura quando tocco il pallone quell'altro madonna mia ogni volta che prende la palla mi viene l'ansia mi viene l'ansia poi si fa sempre a munire sempre porca puttana incredibile comunque ha fatto la sua partitella meno male che poi l'ha tolto nel primo tempo e l'avrei messo un po' prima però nel complesso meno male abbia fatto il 4 a 2 meno male abbia fatto il 4 a 2 perché io sinceramente non la vedevo brutta sta partita io quando ha fatto il 3 a 2 ho detto ho visto di nuovo l'incubo della rimonta comunque i card che partita fa i cardi ma ha fatto un bel gol il primo gol poi qualche buon azioncino così ma di per sé una partita discreta che diciamo che sono sono i due gol che gli aumentano la sua il suo voto quindi poi che andrea corricchiato segnato anche perisic ha fatto il suo andano ci ha salvato parecchie volte il culo era un occhio ha fatto una discreta partita ansaldi devo dire che sembra che sia miglioramento d'ambrosio mi è piaciuto devo dire che la grinta ce l'ha messa ha fatto meno cappella del solito banega banega non mi è piaciuto banega proprio non lo so a volte si perde sbaglia delle cose allucinanti non lo so non lo so comunque cosa bisogna dire di questa inter ci sono parecchie cose da migliorare perché dobbiamo riuscire a mantenere più che altro secondo me partiamo troppo troppe volte partiamo proprio a 100 a mille partiamo tutti a mille proprio che tutti corrono poi fatto sta che poi ne ripaghiamo poi nel secondo tempo rieschiamo di essere rimontati quindi caro pioli consiglio mio che io io sono un tifoso vabbè per carità qualcosa forse posso intuire questa squadra no contro il napoli venerdì abbiamo il napoli siamo in trasferta trasferta difficile il napoli è momento di crisi perché adesso pareggiato con sassuolo però non è insomma in buona forma non è anche un po in crisi dei risultati però caro pioli è bello giocare sempre davanti in attacco partire subito segnando come ha fatto con la pole besceva poi ci siamo fatti rimontare ma lì facciamo perdere con la trentina perché siamo fatti subito tre gol però giochiamo saggiamente con napoli la squadra farò giocare saggiamente iniziamo dietro tranquilli senza ci sono 90 minuti ci sono 90 minuti perché fisicamente questi giocatori non ce la possono fare 90 minuti a mille perché si vede si vedono tempo c'è un calo fisico allucinante perché è ovvio che si spompano in primi minuti più 20 minuti 30 minuti danno il mille per cento e poi dopo ovviamente e ne ripagano poi la nel secondo tempo quindi caro pioli contro il napoli per favore si saggio tatticamente mi spiego gioca non dico sempre in difesa però cominciamo tranquilli qualche azione ogni tanto no si può stare per semina avanti però manteniamo gli equilibri perché poi non possiamo giocare partite del genere che partiamo a mille magari si chiamano quel due gol all'inizio e poi ci facciamo rimontare giochiamo tranquilli magari se riusciamo a quello che riusciva a fare l'inter e mantenere il risultato cercare di subire meno gol possibile almeno ok segnare ci sta per carità la fine deve attaccare di segnare però troppe volte ci facciamo fregare dal contropiede avversario e quello il discorso il napoli comunque è in crisi di risultati comunque è una squadra pericolosa perché gente come insigni come mertens come call leon che sono giocatori non da niente e quindi devo stare attenti perché sono tutti in velocità fanno parecchie cose quindi caro pioli contro napoli per favore partiamo tranquilli primo tempo non subito a mille ma come abbiamo meno il 60 70 per cento del di noi non di noi dei giocatori che non devono spomparsi troppo così manteniamo un attimo la il fisico a a posto no anche psicologicamente comunque riusciamo a mantenere la calma senza soffrire fino alla fine facci rimontare quindi caro pioli contro napoli vorrei una partita studiata tatticamente più giusta possibile cerchiamo di ragionare di con la testa anche veramente mi rifiuto anche voi giocatori non spompatevi subito perché poi comunque questa è una partita molto importante questa questa vittoria potrebbe con la sia perché doveva essere quella col toro alla chiave poi sono crollati vinciamo e poi crolliamo vinciamo e poi crolliamo stavolta io spero che dopo questa vittoria ci sia uno sblocco di uno sblocco per andare più più su possibile lo spero poi saranno a vedere comunque un inter soddisfacente però soffriamo troppo soffriamo troppo veramente una sofferenza assoluta giuse luis palomino mi piace la tua viola ma pazienza saluto alessandro maccis saluto alessio miozzi che mi segue sempre ragazzi miei ci vediamo la prossima probabilmente con i pronostici della quindicesima giornata che fatica ragazzi che sudata tre punti sono arrivati con la fiorentina difficili ma ce l'abbiamo fatta ciao ragazzi forza inter a presto